Aprete l'ospedale di Cariatti subito. Un sistema sanitario non deve fare utile di avere sempre un segno o meno davanti. Non è solo una questione di quanti chilometri dista il prossimo ospedale. That's the great lesson that we have to learn. Agitate, educate all the people. Ma in che condizioni si devono percorrere? On the way! La Calabria non ci sta ad abbassare la testa. L'abbiamo appena occupato. Ma adesso ci siamo già una quindicina. Il mercato delle bacche che va sempre a favore dei privati. In Italia, in Europa, Jakarta arriva, detrì, liquide finalmente la solidarietà dell'Etat. Sono tanti pericolosi alla salute. Sono la morte di tanti cittadini. Impose la privatisation dell'Etat. Grazie. Grazie a tutti.